Ciao ragazzi, sono Alessio Forlani, oggi vi voglio presentare un prodotto che ho avuto in prova per circa tre mesi, stato realizzato da una ditta bresciana chiamata Jean Denfrayer, capitanata da un tecnico veramente anticonformista e pieno di risorse. Si tratta di una testata valvolare per chitarra e il suo nome è Glam. Tutte le prove di questa demo sono state realizzate collegando alla Glam, una cassa 1x12 realizzata dalla Jean Denfrayer stessa che monta un Vintage 30 Celestion all'interno e che spara veramente da far paura, meriterebbe un video a sé stante solamente alla cassa. Un microfonato la stessa con uno Shure SM57 e un Sennheiser 421. Il nostro corso gratuito è un secondo corso gratuito, mi piaceva con una Glam, la Glam iscora dei nostri la cassa. Un microfonato la stessa! 2x7 0x8.7 con un piastro ristrano an hablar con il Pareto Cine che fa molto più attrave. Un piastro di questo punto è un'erroge, quindi non è che ero, perché deve essere a la scuola di B. Altriere si aprirare un pollo di ristrano a vedere cosa match, quindi non è un pollo che spara. Un piastro di questo corso che si vantre oppure e La Glam è una 4 canali completamente valvolare, monta 2.6 L6 sullo stadio finale e 3.12 AX7 sul pre, è molto piccina, leggera di dimensioni ridotte, ma spara veramente tanto, sono 50 watt in RMS e 85 in full clip in circa. I 4 canali sono composti nel seguente modo, pulite e drive condividono lo stesso equalizzatore, 3 bande, e gain e volume. Crunch e lead invece hanno equalizzatore in comune, sempre 3 bande, più contour, ma gain e volume indipendenti. Sempre sul frontale trovate due master volume indipendenti, che permettono di avere due volume di uscita differente, in funzione pensata soprattutto per gli assoli. Grazie a tutti. Nel pannello posteriore trovate altri due controlli, presenza e profondità, un selettore a tre posizioni per diverse impendenze di uscita per le casse, 4, 8 e 16, due uscite per le casse stesse, e un send return attivabile in remoto tramite questa pedaliera, che è stata appositamente studiata, quindi avete i 4 canali, i selettori dei 4 canali, il selettore del loop perfetti, e il master che commuta da master 1 a master 2. E' interessante evidenziare come la Jordan Freire stessa abbia realizzato una pedaliera opzionale, che permette di rendere completamente midi la testata. Io ho ricevuto la Glam compilando il form scaricabile online dal sito jordanfreire.net, lo potete fare anche voi, anzi vi invito a farlo. L'ho suonata su palchi di normali dimensioni, l'ho suonata addirittura in un pub non microfonato con la sua cassa 1x12, non ho assolutamente sentito l'esigenza di un secondo corno, non sono mai stato coperto dalla batteria, non ho mai sentito l'esigenza di una spia, di un monitor. Me la sono portata dietro in questa bella custodina che viene allegata al prodotto al momento dell'acquisto, utilissima per quelli che devono andare a fare clinico o seminario muovendosi in treno o semplicemente per quelli che non hanno più voglia di spaccarsi la schiena portandosi dietro una testata da due tonnellate. Bene, vi invito a incuriosirvi a questo prodotto, vi saluto, alla prossima, Alessio Forlani, ciao!